Da Lugano a Lecce per un viaggio accademico che ogni sei mesi fa tappa in diverse località del mondo. Sono 22 studenti provenienti dall'Università Americana Franklin College, Ateneo privato a Selestrisce con sede nella bellissima località svizzera. Vengono da Stati Uniti, Cina, India, Russia, Svizzera e anche Italia e per qualche giorno saranno impegnati in un tour turistico del Salento, di cui visiteranno chiese, monumenti, botteghe artigiane, ma anche aziende vinicole olearie. Ad accoglierli, per poggere loro il saluto della città, il sindaco Paolo Perrone, che ha voluto riceverli nell'Aula Consigliare del Comune. Al primo cittadino hanno potuto rivolgere le loro domande relative al modello di sviluppo scelto per il territorio, diverso da quello industriale, per cui altre aree come Brindisi e Taranto hanno optato, puntando più sul patrimonio identitario, sia monumentale che naturale, ma anche su quello immateriale, costituito da culture e tradizioni. Un valore aggiunto che ha avuto un peso nella scelta dell'Università Americana di far tappa nella città barocca. La qualità di vita qui è molto migliore che in altre città, non solo in Italia, ma all'estero. Certamente la struttura amministrativa, accademica e politica della città risalta in paragone ad altri luoghi in Italia. E poi anche i cittadini, un popolo piacevole, i leccesi. Mi piace molto anche questo tipo di barocco, è molto particolare, tipico, mi piace molto.